Con la ripartenza di attività commerciali e servizi cresce l'esigenza di mobilità delle persone e l'azienda di trasporti locale risponde con un aumento del numero di autobus. Dal 18 maggio un incremento delle corse riguarderà le linee 15, Genova-Fontana Buona-Chiavari, e la linea 25, Torriglia-Bargaglia-Genova, che avranno un servizio a cadenza oraria. Ripristinate totalmente le linee 13 e 31, che collegano il quadrilatero di comuni Chiavari-Lavagna-Cogorno-Cadasco, con autobus ogni mezz'ora. Arriveremo alla metà del mese prossimo al regime classico di occupazione. Gradatamente proseguiamo perché non sapendo se le esigenze di mobilità vengono confermate, noi ci teniamo qualche sacchetto di sabbia, nel senso che non ripristiniamo proprio il servizio come era a gennaio, ma cerchiamo, qualora dovessimo andare a intensificare una linea, di distribuire diversamente le risorse che abbiamo, che oggi cubano per 8 milioni e mezzo di chilometri. Ripristino delle corse che non significa ancora un servizio ordinario, viste le norme di contingentamento che impediscono di trasportare oltre 20 passeggeri per mezzo. In quest'ottica ATP sta monitorando i carichi grazie al lavoro dei controllori, per capire come adattare il servizio alle esigenze della clientela. Sempre sul versante sicurezza, grande attenzione per le igienizzazioni e le sanificazioni dei mezzi. Attuiamo con una ditta specializzata settimanalmente su tutti i mezzi un processo di sanificazione vera e propria, con prodotti che devono essere utilizzati da personale abilitato, non lo può usare il semplice pulitore, e una volta la settimana in tutte le nostre rimesse viene fatto questo ulteriore processo. In più stiamo svolgendo un'importante azione con delle bombolette One Shock, nel senso che vengono inserite e poi lasciate consumare a bordo dell'autobus per gli impianti di aria condizionata. Facciamo circolare tutto l'impianto di aria condizionata e lo sanifichiamo attraverso questi prodotti.